Il gol è arrivato, tutta anche questa semifinale è il fagato. Pregnano gli atleti da Bernate, inseriti insieme al gruppo, è finito il tempo preso su tutti, vediamo sia lui che con noi, lo campionerà il suo stile, il tetto lo riesce a portare, tutto il... lo gitano riesce a arrivare in prima posizione, il terzo scelito da Bernate, di Saboni parte, Grazie a tutti